Oltre mille le chiamate ricevute dall'Asra Toscana Sud-Est ogni giorno da parte di cittadini che chiedono informazioni in merito al coronavirus. L'azienda sanitaria, per far fronte alle numerose richieste, ha così attivato un altro numero verde. Si tratta dell'800 050 529, che si aggiunge al già esistente 800 579 579. Entrambi i numeri verdi hanno a disposizione 10 linee telefoniche attive contemporaneamente dalle 8 alle 20 tutti i giorni, anche i festivi. I due numeri sono dedicati a coloro che sono stati in contatto con persone positive o chi è rientrato da Cina, Hong Kong, Singapore, Iran e Corea del Sud. Inoltre l'Asra Toscana Sud-Est ha già attivato il servizio di messaggistica istantanea di WhatsApp a cui sottoporre domande. Il numero è 366-638-2531. I cittadini, infine, per comunicare la presenza sul territorio dell'Asra Toscana Sud-Est ai servizi di igiene pubblica dei dipartimenti di prevenzione